La notizia che Amazon ha superato e di molto la soglia massima di contratti di lavoro interinale suscita una considerazione generale al di là del caso specifico. È immediato e banale pensare che siamo di fronte all'ultimo episodio dell'eterna lotta tra datori di lavoro e lavoratori. Però il problema è capire se consentire a un'azienda di ricorrere ampiamente a forme contrattuali flessibili è un modo per permettere a più persone di lavorare. Anziché a meno di farlo. Se i datori di lavoro si trovano davanti all'alternativa tra assumere a tempo determinato o non assumere affatto è probabile che ovvieranno in altro modo, ricorrendo per esempio al lavoro in nero e favorendo quindi quell'evasione che da anni sembra essere l'oggetto di più ferre e lotte oppure ricorrendo all'automazione nel caso di lavori manuali e non specializzati. È la stessa storia del salario minimo. Ogni rigida limitazione della libertà degli operatori del mercato si traduce alla fine in minore opportunità di accesso a quel mercato. Un danno prima che per le multinazionali, proprio per i lavoratori o per quelli che vogliono entrare nel mercato del lavoro. Non comprendere questa conseguenza inintenzionale, non comprendere che è proprio la parte ritenuta più debole del rapporto di lavoro, quella che rischia di essere estromessa da rigide forme contrattuali di lavoro, può ripagare nell'immediato quando si conquistano le prime pagine dei giornali, ma nel lungo termine non fa altro che danneggiare proprio i lavoratori meno qualificati e più facilmente sostituibili.